Siamo con Piero Careri dell'Enoteca Il Vicolo, uno degli organizzatori di questa manifestazione. Allora ci facciamo spiegare che cos'è, di che cosa si tratta e come è venuta l'idea. Nasce dall'idea di Elio, il padrone del Victor Pub a Riccione, che mi ha coinvolto in questa manifestazione che abbiamo organizzato nel Green Park a Riccione in Viale Ceccarini, coinvolgendo i cinque marchi più importanti della spumatistica italiana, quindi Berlucchi, Bellavista, Cadelbosco, Antinori e Ferrari, utilizzando il meglio che potevano offrire loro nelle loro cantine. Diamo la possibilità, oltre a passeggiare lungo il Green Park di Viale Ceccarini, di degustare i migliori loro vini. Abbiamo sfruttato un po' le conoscenze di queste aziende che hanno sposato Viale Ceccarini, hanno sposato Viale Ceccarini come il loro luogo preferito per fare queste cose. In un periodo dell'Expo di Milano hanno comunque concesso i loro marchi solo perché era Riccione, solo perché era Viale Ceccarini. Ogni azienda al suo stand, ritirando il proprio calice, si degusta il vino. Tutto questo in una corrice stupenda di un weekend bellissimo. Non c'è soltanto vino, abbiamo visto anche degli ottimi salumi. Assolutamente, c'è questo ragazzo Stefano Zavaglia, patrono dell'azienda Golfera, famosissimo per la golfetta, che abbiamo voluto legare a questi grandi marchi perché lo è anche lui e assieme a questi assaggi di vino sarà possibile intervallarli con un assaggio di food.